Ciao, allora siccome io non sono mai stato seguito da un preparatore atletico ho sempre fatto le tabelle quelle che si trovano in giro un bel giorno ho detto fammi un po' vedere se esiste qualcosa di alternativo e in questi giorni appunto ho scoperto che esiste Bike Evo allora loro che cosa fanno? facendo un test, diciamo un test di performance in base a quello e alle tue caratteristiche ti formulano delle tabelle personalizzate questo viene fatto attraverso tutti degli algoritmi studiati con dei preparatori molto conosciuti e voglio provare questa cosa qua voglio provarla, è una cosa che voglio provare ho fatto due parole con gli sviluppatori sentendo loro programma la possibilità in base alle tue esigenze di calibrarti esattamente le uscite proprio sulle tue esigenze di tempo, di giorni di tutto quello che è questo secondo me è molto interessante in base in funzione al risultato che vuoi ottenere e tutte queste cose qui secondo me è fantastico loro hanno un'applicazione che è fatta veramente bene però l'unica cosa è che per farla questa qui c'è anche la realtà aumentata ti fa vedere con la webcam se tu inquadri ad esempio una collina vedi dove sono i segmenti su Strava incredibile, fantastico al di là di quello adesso per farla funzionare devo fare un test tra virgolette di autovalutazione in pratica tu fai partire la bici, fai una sessione sui rulli ci vuole il cardiofrequenzimetro e altri sensori che comunque più o meno tutti quanti abbiamo e non so nemmeno come sia adesso metto la GoPro qua, la metto mentre faccio il test questa normalmente è la mia postazione dove io faccio i rulli su Swift quindi normalmente c'è la mappa di Swift e a sto giro invece faccio tutto provando con l'applicazione dai allora adesso provo a fare il test d'ingresso vediamo un attimino che cosa mi dice poi pian piano nel tempo lo voglio provare bene e poi farvi un video dove vi spiego bene come funziona se nel frattempo avete curiosità mi potete scrivere una mail e vi spiego come sta andando la questione un'email oppure su Instagram dove volete mi potete scrivere se qualcuno di voi vuole già acquistargli il pacchetto parlando con i loro sviluppatori mi hanno dato un codice sconto che vi posso girare tranquillamente quindi lo trovate in descrizione comunque quando siete sul loro carrello il codice è ILBIKER scritto in maiuscolo e vi fanno il 10% di sconto che non è per niente male e basta dai proviamo a fare questo test di autovalutazione